Quattordicesima giornata, anzi quattordicesima puntata di calcio di rigore, partiamo così questa sera, buonasera innanzitutto a Daniele Emanuelli e da? Veronica Lisotti, ben trovati a tutti voi. Allora Veronica, cosa parliamo stasera, cosa avremo come servizio? Abbiamo tante cose da vedere questa sera, caro Daniele, partiamo con le immagini relative alla sfida del Rimini con il Sant'Agostino, parleremo poi anche di mercato ovviamente, poi scenderemo in promozione con la gara di Russi Calcio del Duca e San Pietro in vincoli, Calcio Cotignola, poi ci sposteremo come sempre in zona marchigiana dove andremo nuovamente a vedere l'ennesima sconfitta delle Gabice e Gradara d'opera della Laurentina e poi scenderemo invece in prima categoria Gironeac, quindi ci sposteremo nuovamente in Romagna con Granata Vis Nova Feltria. Come sempre per interagire con noi 333 60 94 299 tramite sms o tramite whatsapp, poi abbiamo la nostra pagina facebook con gli aggiornamenti in tempo reale calciodirigore.official e per chi volesse rivedere la puntata www.romagnasport.com Questa sera abbiamo un tris di ospiti insieme ovviamente al nostro immancabile opinionista, li andiamo subito a conoscere allora. Ebbene, salutiamo sempre con piacere il nostro opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Benvenuto nei nostri studi al centrocampista della Savignanese Marco Brighi. Buonasera, buonasera a voi. Salutiamo anche il direttore del Coriano Cristian Montanari. Buonasera, buonasera. E salutiamo l'ultimo arrivato in categoria ma non per questo ultimo, ultimo dell'ultimo, anche se Villa Alta purtroppo non sta andando molto bene, il tecnico di Villa Alta Marco Gambacorta. Buonasera a tutti. Lo ricordiamo, ex giocatore del Rimini, giusto? Di Rimini, certo. Ti fa un certo effetto vedere il Rimini in eccellenza quest'anno? Eh, fa effetto sì, ricordando il vecchio Romero Neri di una volta, insomma, con 12-13 mila spettatori viene un po' il magone, però auguriamo Rimini chiaramente di risalire di categoria perché ce l'abbiamo tutti nel cuore, io in particolar modo, dato che insomma ho vissuto gli anni belli del Rimini, del Rimini calcio. Cristian, tu stasera sei particolarmente felice dopo la prestazione di ieri, no? Parti a vedere che sei, come ti dico, nel caso ci sta tutto, l'importante è accettare quello che il caso ci può dare, piangersi addosso non conta niente, ci guardiamo attorno e vediamo quello che la prossima domenica ci proporrà di nuovo il campo. Senti, a chi dice che il Corriano ha un po' la delusione in questo momento del campionato, poi ti senti rispondere? Io sento di rispondere a tutti che il campo dirà la sua parte, è ovvio che rispetto alle aspettative siamo un po' sotto tono, ma se vi devo dire il perché, guardando proprio i numeri è alla mano, è plausibile, è lampante il fatto che c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo rimasto gli ultimi 4-5 giorni di mercato, questa settimana succederanno delle cose più importanti a Corriano e sicuramente dovremo dare una svolta. E te lo auguriamo perché comunque Corriano è una piazza importante anche perché ha avuto un allenatore molto bravo. Sapete, è il primo anno che faccio il direttore a Corriano quest'anno e ho sulle spalle l'anno scorso un terzo piazzamento in classifica, quindi non è facile riproporre i fasti che sono stati a Corriano l'anno scorso, però secondo me c'è in prima di tutto la società che non sta affatto di persone competenti e capaci, un organico strutturato in un certo modo, col mio avvento quest'anno spero fino alla fine poter dare un contributo importante alla società che fino ad oggi sembra non essere arrivato, perché comunque io sono il primo ad essere messo sulla graticola. La squadra l'ho strutturata io, l'ho fatta un pochettino io con l'aiuto della società, però bisogna essere anche in grado di assumersi le proprie responsabilità. E questo ti fa onore. Marco, Savignano si aspetta qualcosa di in più da diverse annate, quest'anno è l'anno buono oppure dopo il pareggio visto anche ieri contro il Meldola sarà la solita stagione, vista in altre per l'ennesima volta Savignano? Ma diciamo che è stata queste due settimane, in quattro partite abbiamo raccolto veramente poco, due punti e ci trovavamo in ben altre posizioni di classifica un mesetto fa, quindi siamo i primi ad essere un po' delusi, sappiamo che comunque è un campionato che vede Rimini la davanti al momento a battagliare, ma credo che e mi auguro che possa poi vincere e per il resto credo che dietro a Rimini ci possa giocare un po' con tutti, questo è quello che ha dimostrato tutto il girone di andata, dovremo cercare da domenica e poi nel girone di ritorno di risalire e riprendere quelle posizioni che credo la Savignanese con il suo organico, con la sua società e insomma con tutto quello che gira intorno si possa permettere e si possa meritare. Speriamo, speriamo per la piazza di Savignano. Allora io Veronica direi di andare a leggere contenuti i sfruttati classifichi e poi sentiamo anche il nostro Giacomo, prego. Ebbene sì, vediamo quello che è successo nella diciassettesima giornata girone B, vittoria rimonta tra Castrocaro e Real San Lazzaro 2-1, Corticella-Sampierana 1-1, torna a sorridere Faenza ai danni del Cervia 3-1, Faro classe 2-3, Marignanese-Bellaria 3-2, match al Cardiopalma tra Massa Lombarda e Fiericcione termina 3-0, risultato d'occhiali invece fra Old Meldola e Savignanese 1-1 fra Progresso e Granamica, Sant'Agostino 1-0 contro il Rimini, mentre Tonini a decidere tra Sassomarconi e Argentana 1-0. Vediamo anche la classifica, ricordando che Argentana-Corticella ancora deve essere disputata, le reti segnate sono 28 in questa giornata, il capocannoniere e Noselli del Sassomarconi con 13 centri all'attivo. Troviamo dunque in vetta, prende la vetta il Sassomarconi con 41 punti, capace di realizzare 25 punti in casa e 16 in trasferta, zona play-off per il Rimini che mantiene comunque il migliore attacco con 36 centri e la migliore difesa a 9, poi abbiamo il classe 31-30 Progresso, Granamica 29, Massa Lombarda che conquista posizione 29, Fiericcione-Rean-Sallazzaro-Faenza 27 e poi la Savignanese a 26 punti, ricordiamo tra l'altro che ha 7 vittorie e 5 pareggi, 6 sconfitte, chiudono in zona play-out Corticella-Faro, Olmeldola e San Pierana e zona retrocessione ai noi per il nostro Giacomo Alpini, Bellaria-Gemarina 12 punti e Cerva-Fanarino di coda con 11. Giacomo, cerchiamo di fare un piccolo punto della situazione vista le gare di ieri, il Bellaria che vinceva 2-0 venne rimontata dalla Marignanese, questa è una sfida che ti riguarda soprattutto da vicino e come diceva anche Veronica prima per quanto riguarda i penni alti la classifica, torna a risprendere la classifica e quel che concerne Massa Lombarda. Sì, sicuramente il risultato più clamoroso è questa sconfitta del Rimini che ha lasciato il primo posto al Sasson Marconi, non me l'aspettavo visto anche le ultime due partite, ricordiamo che Rimini in due partite aveva vinto contro la prima all'epoca e la terza all'epoca rifilando 9 gol su Bendone 0, quindi non mi aspettavo una sconfitta sicuramente a Sant'Agostino. Vediamo le immagini Giacomo? Sì, infatti cerchiamo di vedere le immagini perché visto che anche ieri la nebbia ha caratterizzato tantissime partite e quindi anche molte immagini che si vedono e non si vedono riescono a far vedere quel poco della partita. Io effettivamente non mi aspettavo questa sconfitta, infatti pensavo che Rimini dopo aver superato il Sasson Marconi iniziava quella corsa verso la vittoria finale. Adesso bisogna vedere anche gli ultimi movimenti di mercato visto che c'è ancora questa settimana a disposizione, già oggi mi sembra che sia arrivato un'altra pedina importante per i Rimini, quindi vedremo cosa succederà a progresso che è veramente una sfida molto importante. Eh sì, tra l'altro anche il progresso, scusami se ti interrompo, è comunque in risalita, in classifica. Adesso ieri ha pareggiato con il Gran Amica ma ci poteva stare il pareggio ieri. Sì, un altro risultato che mi ha sorpreso è stata la vittoria del Massa Lombarda con la Fia Riccione. Dico questo perché in settimana il Massa Lombarda aveva ceduto praticamente 5 dei titolari tra cui Poletti e lo stesso Fogliera la settimana prima, quindi pezzi importanti del suo organico e non mi aspettavo che contro una Fia Riccione che era in zona playoff e con un buon curriculum ultimamente di partite riuscisse a fare bottino pieno. È vero, è stata una partita un po' rocambolesca, infatti verso la fine del primo tempo il Massa Lombarda si è portato sul 2-0, recuperato nei primi dieci minuti del secondo tempo dalla Fia Riccione e conclusa la fine con un gol di Senese. Quindi non mi aspettavo questa vittoria del Massa Lombarda. Per quanto riguarda il Bellaria non so, non vorrei dire più di tanto. Non mi aspettavo, dopo dieci minuti, venti minuti, vincere 2-0 ho detto già questa prima vittoria in trasferta e invece è arrivata l'ennesima sconfitta, la dodicesima e poi ahimè mi è arrivata anche la tegola della cessione del bomber Mastroianni, quindi la vedo molto molto dura in questo periodo per i Bellari. Sti anticipando un po' tutto, infatti tra poco, anzi nel finale di trasmissione andiamo a vedere tutte le grafiche per quelle che concerne il mercato dalla prima categoria fino ad arrivare all'eccellenza per l'appunto. Marco, prima di passare alla promozione, una domanda per quanto riguarda te e a livello personale, ti ho mai chiesto qualcuno di ritornare a Rimini? Dile la verità. No, non c'è stato modo, anche perché ho trovato l'accordo con la Savignanese quasi subito quest'estate, quindi non c'era possibilità di movimento, poi il Rimini ha fatto tante altre ottime scelte, quindi credo che la rosa sia più che competitiva quella di Biancorossi. Guarda, stasera ufficiale ti ufficializzo io, c'è giocampista serve, quindi vieni a giocare con noi. Sto scherzando ovviamente, però complimenti per la tua stagione, già comunque aggiunge qualcosa? Sì, volevo mettere una nota positiva per il debutto di un Classi 2000 in porta a Cervia, ma grado di tre gol subiti ha parato un rigore, quindi ha limitato i danni, ma è veramente un complimento a questo ragazzo anno 2000 che ha debuttato ieri con i Cervi. Allora adesso andiamo a vedere proprio il prossimo turno, così dopo ci spostiamo in promozione, andiamo a sentire anche Cristian, andiamo a vedere appunto quello ci riserva la prossima giornata, ci sono diverse sfide interessanti, ovviamente su tutto noi seguiremo progresso Rimini, Sant'Agostino Savignanese, la sfida che riguarda da vicino appunto il nostro Marco, ieri Sant'Agostino ha battuto i Rimini 1-0, tra l'altro la seconda squadra che riesce a battere proprio il Biancorossi, se questo proprio lo dobbiamo dire, Sasso Marconi Bellaria per far contento il nostro Giacomo. Un pareggio sicuro, se non la vittoria. E' un'altra esperta da evitare per il tuo bellare e vediamo anche Faro Fialicione. Va bene, questa era l'eccellenza. Adesso si, spostiamoci allora in promozione Girone D, dove vediamo quello che è successo nella diciassettesima giornata, dove apriamo con lo scontro salvezza tra Bacchia Cesenatico e Fosso Ghiaia con i Bacchia in 10 per 25 minuti, anche qui 0-0. Gattio Giovane Cattolica 0-2, 1-0 fra Reda e Savarna, Ronco Edelweiss Diegaro 0-2, 2-2 invece fra Russi e Calcio del Duca, San Pietro in vincoli, Calcio Cotignola 1-0, Valle Savio Gambetola 1-2, Stella Torconca 2-4 e Tropical Corriano Re Aldo Badola 1-2. Vediamo anche la classifica, ricordando che il capocannoniere del Girone è Farabegoli del Ronco e del Baiss, con B in 14 gettoni all'attivo, dove aguanta il primato, il Diegaro con 17 punti effettuati in casa e 21 in trasferta. Il capocannoniere invece del Diegaro sono i 6 gol di Rodriguez, 38 dunque i punti e la migliore difesa, solo 7 infatti quelli incassati. Troviamo poi a 36 Russi, sempre in zona playoff Calcio del Duca, con il miglior attacco 35 le reti segnate, Torconca davvero che sta compiendo una grandissima stagione, visto comunque come aveva iniziato, 31 punti insieme al Reda. Segnaliamo anche la Giovane Cattolica che sta davvero risalendo la cima, anche il San Pietro Amico che invece sta attraversando un periodo un po' no, poi troviamo invece il Tropical Coriano a 21 punti, 8 quelli in casa e 12 quelli in trasferta, mentre in zona playoff Gatteo, Valle Savio, Savarna, Bacchia, Cesenatico e zona bassa della classifica Fosso Ghiaia e Real Dovadola, entrambe a 10 punti. Ebbene sì, questi erano dunque i risultati classifichi di ieri, io direi di andare a vedere il primo servizio inerente proprio alla promozione, andando a vedere l'ex capolista Russi che davvero perde il passo, ma ieri era plausibile anche perché comunque si giocava lo scontro tra seconda e terza della classe. Servizio relativo a Russi, Calcio del Duca. Torna a fare punti i Russi che affrontano tra le Muramica il calcio del Duca, sfida di alta classifica fra seconda e terza della classe, mentre Degaro in virtù del pareggio tra le due litiganti ne approfitta e allunga in classifica, proprio sui falchetti che ritrovano tra l'altro la vena realizzativa di Fabio Babini, autore di una doppietta. Ma i Russi si mostra subito ispirato, tanto che da un inocco colpo di testa Sanzani si complica la vita da solo, Ibniz però non ne approfitta. Quando gli ospiti avanzano rischiano di far male, come in occasione di Semeraro che sfona al centro un traversone sul quale i compagni non intervengono all'appuntamento con i gol. Ma lo stesso numero 10 decide allora di fare da sé. Dopotutto vale la legge che chi fa da sé fa per tre. E Semeraro che di mestiere fa il seminatore, semina la stata giusta che porta al titolo di via del gol, assist per Dimitru, 1-0 e del Duca in vantaggio. I Russi d'altronde si mostra a grande squadra e dopo un'azione offensiva, i Teodi del Fiore viene immorato dalla retroguardia ospite. Babini, questa volta approfittando di un disimpegno non certamente prezioso, mette in moto il suo piediro fatato sfiorando la marcatura. Ma Semeraro dall'altra parte continua a seminare, questa volta divorandosi contro il piede la chance di mettere in ghiaccio la partita. La risposta dei Russi non si fa aspettare. Sono gli sviluppi di un calcio piazzato, Ibrich conquista il rigore, trasformato impeccabilmente da Fabio Babini, che calcia alla sinistra del portiere riportando in parità il match. Ma dall'altra parte, Casadio si trova scavalcato da un traversone che per poco non arriva sulla testa di Collini, ma carambola beffardamente sul difensore di casa, terminando infine tra i guantoni dello stesso portiere dei Falchetti. Prove del gol per l'idea Duca solamente rimandate, che raggiunge il proprio obiettivo quando Collini, in spaccata, buca la rete con la complicità del palo alla sinistra del portiere Casadio. In chiusura di tempo, Sanzani costita i miracoli con guanti e piedi per respingere due tentativi dei Russi, secondo dei quali fermato per segnalazione di offside, mentre dall'altra parte i del Duca continuano a rendersi pericoloso con il contropiede su arma micidiale, ma Semerano ancora una volta non trova compagni all'appuntamento con i gol. Ad inizio ripresa, i Russi provano ad alzare da subito il ritmo, studiando la via dei gol con due conclusioni a distanza proibitiva che non rendono grattacapi agli ospiti. Fino a quando, Babini, si prende il pallone sulla giusta e pennella una punizione melenosa che non prende il giro in direzione porta. Lo stesso attaccante ci prova poco dopo, ma il suo colpo di testa non incide. Da una punizione, però, nasce il pareggio delle arancioni. Trovano il pareggio, proprio Babini toglie le cosiddette castagne dal fuoco per i suoi. Le due formazioni nel finale di gara giocano a scaldare i guantoni da una parte a casa Dio e dall'altra a Sanzani. Pari giusto tra seconda e terza della classe che si sono divise un tempo ciascuno. Del Duca ha bello e convincente nel primo tempo, ma conservatore nella ripresa. Russi, da addormentato nel primo tempo, ha bello nella ripresa. Babini permettendo. L'ossigenatura in questo caso non vale, ma la doppietta sì. Marco, mister, provo a fare una battuta con te. Tu arrivi con i Villalta dall'ultimo posto in classifica, ricordiamo situazione un po' drastica. In questo momento tu sei entrato a campionato in corso, però qui viviamo la favola del Russi. Prime otto partite, 24 punti. Le ha vinte davvero tutte. Poi, secondo te, come si spiega un calo fisico così enorme di questa squadra, dato che comunque ha perso i primati in classifica, adesso si trova a salvaguardare il secondo posto? Ma io adesso dall'esterno è fatica a dire, diciamo così che possono capitare, come parlavamo prima anche per i Rimini, alcune battute del resto, però c'è da dire che la prima in classifica di Diego sta tenendo un passo non indifferente. Nonostante i russi avesse avuto quelle otto vittorie di fila, loro sono sempre rimaste agganciate e praticamente stanno tenendo proprio un passo al di sopra di ogni aspettativa. Sono campionati difficili come a tutti i livelli e chi è più continuo chiaramente avrà la meglio. Sicuramente un periodo di crisi, un po' di appannamento in un'altra stagione è quasi fisiologico da parte di tutti. Non glielo auguro al Diego, ma probabilmente magari farà i conti anche lei con un momento di appannamento che possa far sì che magari altri possano riprendere la via, diciamo così. Però diciamo che è più o meno fisiologico nel discorso del genere. Indigano che tra l'altro domenica scorsa avrà battuto proprio i russi nello sconto diretto. Certo, certo, infatti lo sconto diretto ha dato ragione al Diego e forse con quello slancio lì sono ripartiti ancora più fiduciosi. Però il campionato è ancora lungo, sarebbe troppo bello partire vincendo sempre e ultimando così. Sai, gli altri non è che stanno lì a guardare. E poi diciamocela tutta, anche gli scontri con le più basse in classifica che vogliono risalire sono sempre pieni di tranelli. Il calcio è bello anche per questo, nulla è scontato, lo dimostra proprio i rimini di ieri che è inciampato secondo me su una classica buccia di banana. Però insomma i valori alla fine vengono fuori sempre, secondo me. Il Cristiano ha scelto proprio l'intervento di Marco, non apposta, perché prima tu giustamente dicevi la mia prima esperienza come direttore sportivo, però ti ho fatto dire proprio dall'esperienza di Marco come allenatore, parlare di queste due squadre come i russi, il Diego stesso, ma anche il calcio del Duca. Il calcio del Duca, per farti un esempio, lo scorso anno lottava per non retrocedere e quest'anno si trova al momento a duellare per la vittoria finale del campionato. Secondo te, vedendo anche i rinforzi di questo mercato, di queste grandi big, cosa serve al Coriano per ripartire alla grande e perché no entrare nei play-off? Una parola semplice, credere nei propri mezzi. E' quello che io cerco di ribadire ai miei ragazzi, al mio allenatore, sicuramente credere nei propri mezzi, perché il Coriano secondo me è una rosa importante, costruita in modo secondo me oculato dal Presidente, direttore generale, da anche me stesso. dobbiamo dare una classica sterzata, come si dice a quelli che parlano bene, perché la rosa c'è, secondo me è competitiva, per cui al momento bisogna guardare la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è quella di dover guardare, ammirare l'obiettivo salvezza il più presto possibile. L'obiettivo salvezza sono 42 punti e è un obiettivo alla portata e poi tutto ciò che verrà sarà ovviamente tutto di guadagnato. Però adesso noi dobbiamo guardare domenica per domenica. Senti, dato che parlavi di obiettivi, è un obiettivo la fusione con la fiericione, ci sarà oppure sono solamente voci, rumors? Io ritengo che siano rumors molto elevati, al momento io non ho ricevuto nessun tipo di notizia, ma non credo di essere io la persona che deve ricevere notizie di questo genere. Io devo occuparmi del campo, dell'aspetto tecnico, di giocare ogni domenica per centrare un obiettivo, che è quello dei tre punti, che in questo momento sono più importanti e basilari che mai. Dimmi solo sì o no, manca quest'anno fratti al coreano? L'avevo, purtroppo mi tocca dire di sì, ma non tanto Gianni. Mi piace la tua sincerità. Gianni l'anno scorso è stato un partner importantissimo di Matteo, gli ha permesso di fare i suoi 24 gol e molti di questi 24 gol sono anche in merito di Gianni. È un giocatore che è stato nell'ombra, che io ho dovuto lasciare per sua scelta e mi è dispiaciuto tanto. Ho voluto costruire una rosa diversa, io lo chiamo il pennellone, togliendo quell'attaccante di statura, di struttura e non ho avuto i risultati sperati. Va bene, questo ti fa onore anche perché riconosci anche un'errata valutazione di mercato, ma non è di peso da te le spiegate. Riconoscere i propri limiti fa parte del gioco, ma da parte anche della vita. No, no, è giusto, ma non tutti sono... Solo chi non sbaglia non cresce. Allora, adesso noi andiamo a vedere il San Pietro, perché altrimenti da San Pietro ci sgridano, perché sono sempre lì pronti a vedere questo servizio e l'andiamo a vedere. Servizio. Torna successo ai San Pietro in vincoli, mettendo in vetrina l'autore del gol Bayardi, ultimo arrivo, in casa Ravennate. Il successo di misura aiuta ad assenerare gli animi tra la compaggia di Frischi e affrontare una tranquilla sosta, anche se la classifica al momento non rispecchia le aspettative. Il San Pietro in campo getta oltre l'ostacolo il cuore e fin da subito si rende pericoloso con un cross di Baldinotti non capitalizzato da Barzan. Ma il gol arriva al tredicesimo, quando Barzan, forse aggiustandosi inizialmente il pallone con la mano, serve Bayardi verticale, che è bravissimo ad infilare Zama. Godi tre punti, che vale ovviamente oro. Il Cotignola cerca di spaventare i padroni di casa con un tiro di Fabri, deviati in corner. Stesso esito qualche minuto dopo, quando Arda serve a Bengozzi, che alza però la mira. Il Cotignola non demorde ma non morde, tentando la botta da fuori aria con Manaresi e da un rivio maldestro di Sassi, Castellari non ne approfitta proprio, come del resto poco dopo, quando un pallonetto in aria si spegne sul fondo. Nella ripresa, pronti e via, e Sassi compie un autentico miracolo su Mengozzi. Spanessi dall'altra parte scuote il suo esservendo Barzan, che tira alto. Con Casadio, tre minuti più tardi, pronto ad emulare il compagno, non inquadrando il bersaglio. Il Cotignola, a 35esimo, ha una stanza con Petrini, che non incide. Più preciso Montanaro Gatto, che chiama la presa Zama dall'altra parte. Mentre la mira per gli ospiti risulta essere davvero un'opzione, quando in questo caso bisognerebbe chiedere il perché a Paganelli. Finale da brivido con Genuario, che si divora il godere a doppio, ma al San Pietro basta così, nel giorno del ritorno al successo mai più vittoria sofferta. E dunque, complimenti anche al San Pietro, che è ritornato al successo dopo tantissime giornate. Complimenti anche al mister Frischi, che noi abbiamo avuto modo di conoscere proprio lo scorso anno nei nostri studi. Andiamo a vedere anche il prossimo turno per quanto riguarda la promozione. Altro turno interessante, queste sono un po' le sfide. Torconca, calcio Cotignola, tra l'altro Torconca, tu prima lo sottolineavi, Veronica, grandissimo campionato da parte loro, ma anche un grandissimo campionato in risalita da parte della giovane cattolica. Che adesso chiameremo cattolica, perché comunque Vicino ci aveva parlato proprio di questo possibile cambio di denominazione per far sì che il giovane cattolica possa comunque ritornare a chiamarsi cattolica. Sta un po' deludendo il Dotteo, a mio modo di vedere, perché era partito forte, adesso sta ritornando sui livelli dello scorso anno, lotta per non retrocedere, la Stella ha perso qualche colpo e questo è un po' il succo del discorso per quello che concerne il campionato di promozione. Ebbene sì, allora direi che possiamo prenderci una pausa, cosa dici Daniela? Io direi proprio di sì, noi ci fermiamo per un minuto e mezzo dando la linea alla pubblicità. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento, qui c'è tutto. Sì, sono settore abiti eleganti, diglielo, diglielo tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa, ma qui è una città degli abiti da sposa, una città degli abiti da sposa. Tu pensa, pensa che ce ne sono più di mille, non solo, ci sono anche le bomboniere. Una volta Oliviero era is beautiful, oggi Oliviero è in cempia. Oliviero.it, la città dello shopping. Monte Feltro, vedute rinascimentali, venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del rinascimento. Oléificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita, che nutre e previene. Oléificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusa Rull, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Trovi i nostri piatti a base di pasta fatte in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Tienbotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusa Rull, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarull.com Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGDF Forno Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, griglie petrolavica e anche pocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. RomagnaSport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto ma proprio tutto sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Bene, ritorniamo in studio, adesso parliamo di promozione marchigiana e lascio la parola proprio alla nostra Veronica. Ebbene sì, tredicesima giornata per il girone a Marchigiano dove abbiamo una vittoria all'inglese tra Belvedere e Atletico Alma 0-2, Laurentina e Gabiccio e Gradara 1-0, il big match tra Moia Vallesina e Ilario Lorenzini, vede la vittoria dell'Ilario Lorenzini per 0-1, nuova Real Metauro, il Vigor Senigallia di Antonio Censi 2-0, Osimana Valfoglia 2-1, FC Senigallia Audax Piobbico 3-0, Vigor Castelfidardo Olimpia Marzocca 2-1, mentre a reti bianche Villa Musone passa Tempese. Vediamo anche la classifica a due gare dal Giro di Boa, ricordando che il capo cannoniere del Girone è Denis Pesaresi con 12 reti. Questa giornata c'è stato solamente un pareggio per un totale di 15 reti segnate. Inizia un po' a delinearsi la classifica con l'Ilario Lorenzini che ritrova la vetta dopo la prima giornata di campionato, ha 28 punti, 14 quelli realizzati in casa e in trasferta. Atletico Alma 27, Olimpia Marzocca con il migliore attacco perde dunque la vetta a 28 centri, Moia Vallesina 24, FC Senigallia 21, invece cede il passo la Vigor Senigallia e sale invece la Laurentina. In 8 punti praticamente ci sono 7 squadre. Vigor Castelfidardo a 19 mantiene la migliore difesa con solo 8 gol incassati, mentre il Gabice Gradara si trova bene in undicesima posizione dopo i Fausti di inizio campionato, con 7 punti, quelli fatti in casa, 8 in trasferta, 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. In zona play-out, Osimano Valfoglia, nuovo Real Metauro, bel vedere, mentre in zona retrocessione, Audax Piobico a 7 punti. Ebbene sì, questa è la situazione dunque per quanto riguarda la promozione Girone a Marche. Allora prima di entrare nel vivo andiamo proprio a vedere la sconfitta che riguarda il Gabice Gradara ad opera della Laurentina. Sesta sconfitta stagionale per il Gabice Gradara, aria di crisi tra le fila rosso-blu che dovranno necessariamente trovare sotto l'albero nuove idee e motivazioni accanto agli arrivi e le partenze previsti nel mercato riparatore di dicembre. La Laurentina cinica concretizza una delle tre occasioni da rete avute. Gli adriatici latitano in zona gol, manovre non incisive ben lontane da quelle messe in campo ad inizio campionato. Senza muratore squalificato ritrova minutaggio grieco con Simoncelli preferito Cesaroni, dentro anche Ceramicola e Terenzi. Match non particolarmente entusiasmante con il Gabice Gradara che ha dalla sua il maggior possesso palla. Al nono minuto primo sussulto con Simoncelli che labura un buon pallone con la girata ad incrociare che impegna Renga. Al ventiduesimo è la volta di Costa. Bella la sua parabola che viene però disinnescata dal montante. Alla mezz'ora la Laurentina si mette in luce ma è Palazzi a respingere. Sulla ribattuta Cesaroni-Jonathan prova il lob, ancora l'uno ospite con la punta di guanti, mette in angolo. Sul proseguio dell'azione Fontana mette al centro un buon pallone ma la spizzata termina a lato. Dall'altra parte Ceramicola trova la deviazione nel cuore dell'area di Montanari e si chiude così la prima frazione. Stessi 22 in avvio di ripresa che si apre con il tentativo di Costa da calcio piazzato. La sfera sorvola di Pocollegno. All'undicesimo dalla bandierina ancora Costa Renga smanaccia lato mentre al tredicesimo Simonetti getta la sfera nella Boscaglia. Al quindicesimo Tebaldi punizione che trova l'inzucata di Ferrani e attento Renga. Al diciassettesimo il Gabice Gradara recrimina per un fallo su Rossi. Non ci sono gli estremi per il rigore e l'abbraccio c'è ma come vediamo dall'immagine viene fuori dall'area di rigore. Al diciannovesimo gli Adriatici mancano il bersaglio con il rasoterra di Simoncelli che sfila a lato. Gol sbagliato, gol subito. Al ventiduesimo la Laurentina sfrutta pieno l'unica vera occasione che gli si presenta. Serpentina di Caprini che cerca l'angolino basso con le falangi palazzi indirizzo sul lato ma è Fontana a rubare il tempo alla difesa ospite. Tre punti preziosi conquistati in questo scontro diretto. Nel finale il Gabice Gradara cerca il pareggio ma Terenzi prima e poi Cesaroni sparano alto. Al trepice fischio la Laurentina a zero Gabice Gradara a uno. Simana FC Senigallia prossime sfidanti per chiudere il girone di andata e provare ad uscire dal tunnel in cui la luce appare davvero sempre più fievole per questa matricola che deve assolutamente scacciare i propri fantasmi e ritrovare a fare punti per evitare la zona play out. L'ultima vittoria risale infatti al 30 ottobre. E allora Daniele ultima vittoria che risale al 30 ottobre appunto però parliamo anche un po' di calcio a mercato riguardante il Gabice Gradara. Facciamo un veloce focus. Hanno lasciato la casacca rosso-blu, il centrocampista Roberto Ridolfi e il secondo portiere Simone Ferri. Per scelte societari causa sovrannumero il giocatore nel ruolo di difensore. Giacomo Ruggeri e Matteo Ciavaglia non ovviamente per demeriti. Quindi a loro i migliori auguri e sentiti ringraziamenti da parte del club rosso-blu. E poi invece vacanze natalizie da dedicare alla riabilitazione per bomber William Muratori che si opererà più o meno il 20 dicembre. Quindi anche lui ovviamente i migliori auguri. Mentre tra gli arrivi momentanei abbiamo Federico Broccoli classe 87 portiere e poi Niccolò Marchetti classe 99 attaccante dalla Juniors della Vis Pesaro. Intanto il Gabice Gradara sta cercando un esterno di attacco che potrebbe chiudere questo mercato invernale. Andiamo allora a vedere invece il prossimo turno che vedrà il Gabice Gradara impegnato in casa allo stadio Maggi, le 14.30 domenica. Sarà una formazione purtroppo rimaneggiata perché comunque tante le assenze tra squalificati e infortunati e poi vedremo insomma quello che accadrà anche negli altri campi tra appunto sabato e domenica. Sì, questo è un bello sconto quello che avrà il Gabice. Squadre separate di un punto in classifica. Sì, sono tutti scontri in salvezza adesso. Cosimana 14. Speriamo che possa risalire la china. Stessi punti che ha del nuovo affetto. Andiamo a vedere adesso la prima categoria Romagna. Girone H che prevede appunto la quattordicesima giornata. Domenica ricordiamo che si chiuderà il girone di andata. Poi ci sarà una pausa di circa un mese dal 18 dicembre fino ad arrivare al 18-15 gennaio. Vado a memoria adesso con le date. Ma siamo circa un mese appunto di intervallo. Qui ci sono stati risultati importanti. Leggiamo appunto la sconfitta di Nuova Felta per due reti a zero contro il Granata. Ligia Marina che vince per una rete a zero col Poggio Benni e conferma il primato in classifica. Il Villalta di Mister Gambacorta che perde tre reti a zero contro il Miramare. Il Pietracuta che comunque insegue l'Igea vincendo una a zero contro il Vis Misano. Il Real Miramare che batte il Verrucchio terzo in classifica per due reti a uno. E qui si conferma il capocannoniere docente del Real Miramare con 12 centri in stagione. Mister Gambacorta, le difficoltà di questo torneo? Le difficoltà sono quelle di tutti i tornei. In particolar modo per noi che siamo in fondo alla classifica bisogna che cerchiamo di compattarci tutti e di mettere in campo ancora più di quello che stiamo facendo adesso sperando, cercando appunto di risalire la china un po' alla volta senza tanti isterismi o senza piangersi ad osso come diceva prima qui il mio amico bisogna proprio dare qualcosa di più a tutti quanti. Ieri è stata una partita abbastanza dove non è che abbiamo messo in campo tutte le qualità che avevamo fatto vedere nelle ultime uscite. venivamo da una vittoria e un pareggio in casa del Granata che tra l'altro era una delle squadre in casa più accreditate e diciamo che non abbiamo dato seguito a queste due ultime prestazioni. Ci sta perché insomma riuscire a venirne fuori non è semplice però bisogna essere ottimisti e cercare di lavorare al meglio per mettere in campo una squadra più dignitosa, più di categoria. Questo è il mio pensiero spassionato. Diciamo che noi siamo una piccola realtà e cercheremo in tutte le maniere di tirare il meglio da tutti quanti per avere delle speranze di agganciare la zona salvezza. Adesso, mister, andiamo a vedere proprio uno dei servizi dedicati a questo girone ovvero Granata-Vis-Nuva-Filte. Servizio. Il Granata regola 2-0 in Nuova-Filte facendo valere la propria felicità e infliggendo alla squadra ospite la terza sconfitta consecutiva in trasferta prestazione che rende orgoglioso il tecnico di Casa Cantone. È stata una bella partita da parte nostra molto combattuta, maschia, siamo stati aggressivi dal primo minuto fino alla fine, non abbiamo concesso niente diciamo che siano stati anche facilitati dalla loro espulsione che erano un po' nervosi, li posso anche capire però la nostra vittoria penso che sia chiara e netta sotto tutti i punti di vista. Come con lo spuntricciolo, i giallobru allenati da guerra rimangono in dieci per più di un'ora di gioco con lo spuntricciolo fu Lorenzo Fraboni ad essere espulso al 21esimo contro il Granata, identica sorte a un altro centocampista Paolo Gori, colpevole di un fallo di reazione cosa che chiaramente Dennis Guerra non digerisce. Quando giochiamo in dieci sembra che giochiamo in undici l'unica cosa che si può salvare è la grinta e la determinazione che abbiamo portato in campo quando non è facile rimanere in dieci dal ventesimo del primo tempo e l'unica cosa che mi viene da criticare alla squadra è che dobbiamo correggere atteggiamenti sbagliati e evitare l'espulsione in dieci e rimanere in dieci per praticamente l'80% della gara. In avvio, Nuova Fretta è pericoloso con l'incursione a sinistra di Adopera di Gabriele Raffaelli che è arrivato davanti a Castagnoli lo supera senza però riuscire a servire il fratello Tommaso pronto alla deviazione vincente sotto misura parte bene la squadra ospite ma al primo a fondo il Granata passa un più attentativo sugli sviluppi di un calcio in punizione viene sventato da Ronci con deviazioni in calcio d'angolo proprio dal corner nasce l'incronata vincente Adopera del giocatore Foschi tre minuti dopo come detto in Nuova Fretta rimane in dieci uomini per l'espulsione di Gori l'inferiorità numerica costringe guerra a ridisegnare in Nuova Fretta con i 3-4-2 mentre i locali acquistano più sicurezza al ventottesimo Pagliarani ci provoca una punizione la traiettoria a scendere mette in difficoltà Ronci che respinge con i pugni al tettatresimo contropiede porta Fuzzi davanti al porterone ospite bravo a chiudere lo specchio della porta sul primo tiro di sinistro e a sventare con il corpo il successivo tentativo con il destro nella ripresa al quinto Semproli si gira il penale di rigore ma il suo tiro è corretto in corne dalla difesa ospite a cambiare l'inezza della gara è l'episodio che avviene al minuto 64 un tiro di controbaldo senza pretensia dopo la di Semproli sorprende il portiere Ronci al settantesimo lo stesso Ronci prova a riscattarsi sventando un traversone su quale Pagliarani ben appostato non ne approfitta e mentre al settantacinquesimo all'arbitro sfugge una gomitata rifinata al difensore Fattori schierato tra l'altro nel finale di gara in ruolo di centroavanti Tommaso Raffaelli tenta il colpo sotto senza però fortuna nel finale arrivano le ultime due occasioni da un cross di Cupi arriva la girata di Fattori con la pronta respinta di Castagnoli in uscita un minuto dopo contropiede dopo la degranata Bambino prova a scavalcare Ronci con un pallonetto di controbalzo che termina però alto la gara termina qui Dennis Guerra chiama rapporti suoi ma sugli arbitri ribadisse Niente possiamo ripetere il servizio che avete fatto domenica espulsione al ventesimo del primo tempo ci condizioniamo le partite da soli ovviamente gli arbitraggi preferisco non parlarne perché sono due domeniche che probabilmente li mandano in punizione in prima o in queste partite qui gli arbitri E domenica arriva il Pietracuta proprio nei derby mancheranno sia Gori che Fraboni assenzi importanti in un momento certamente delicato per la compaggia giallobru ma i derby, è sempre i derby Abbiamo sentito guerra lei, Marco Gambacorta non l'ascolta nessuno quante volte ha mandato a quel paese il direttore di gara? Deve succedere anche domenica comunque anche domenica sono due domeniche che se devo dare atta l'ora a Granata ci hanno annullato un gol validissimo al 93 che vincevamo 2-1 un fuorigiochi inesistente ce l'hanno dato domenica solo 1-0 uguale a una punizione con un gol validissimo si è sentito ancora di fischiare che era fuorigioco e dopo è finita come finita però ci sta ti faccio sorridere mentre chiedo alla legge di aiutarci con il prossimo turno qui ho sottolineato appunto proprio adesso le gare a mio modo di vedere più importanti anche per quel che concerne la classifica Romagna-Igea Marina Sporting-Villa Alta-Poggio-Berni qui è una sfida secondo me che tu te la puoi giocare perché comunque la terza ultima contro l'ultima Verlucchio-Colonnella Evissino-Vafritto-Pietro Acuta che è il derbissimo della Valmaricchia che tra l'altro si giocherà allo stadio comunale di Secchiano mister tocca risalire la Chine bisogna vincere questa sfida ci proveremo diciamoci la verità che noi non è che possiamo guardare o il Poggio-Berni o qualsiasi altro noi bisogna che se vogliamo risalire dobbiamo prendere su dappertutto e anche ieri l'intento era quello però non sempre ci si riesce però non è che dobbiamo pensare che una gara è la gara della vita chiaro giochiamo in casa vorremmo far bene però noi per risalire bisogna che prendiamo domenica quell'altra, quell'altra ancora e dobbiamo cercare di dare il meglio se no non ce ne usciamo fuori mi sembra chiaro io ho una sistemazione per lei per il prossimo anno l'ho già trovato lui il presidente del Bellare lei è il secondo numero reale andiamo a vedere adesso le grafiche qui chiedo a Stefano Papini di prendere il servizio relativo al mercato dove andiamo a vedere tutte le grafiche dei movimenti fatti in questo periodo quindi avremo l'eccellenza romagnola eccola qui, qui partiamo Mastroianni, io qui Giacomo ho scritto addio a Bellaria tu dopo mi dicevi che ieri non hai saputo non te l'ha voluto dire l'attaccante dove andrà il Corticella si è rinforzata vedete che ha preso diversi giocatori i Rimini dopo Abdul proprio oggi ha acquistato l'attaccante ai valori dalla Crudienza ricorderete tutti nella San Pierana Cecconi alla Fiericione già si sapeva Poletti l'ha anticipato prima il nostro Giacomo Alpini è uno dei colpi grossi ottenuti dal Meldora e poi via via come vedete sulla schermata tutti i colpi fatti fino a questo momento io qui ho messo quelli più importanti però ce ne sono una marea anche perché se no il nostro Renzo Bardiserri ci sgriderebbe in diretta andiamo a vedere adesso la promozione qui il campionato che riguarda anche da vicino il nostro Cristiano Edie Garo che nonostante il secondo posto in classifica ha eseguito delle entrate e delle uscite Nicolini, Antoniaci, Morigi Montebelli che tra l'altro ha avuto un passato anche nel Rimini Calcio Del Duca Buonavoglia Forti Collini Collini che ieri è già dato in gol contro il Russi e poi via via tutti gli altri Baiardi anche per quanto riguarda il San Pietro di Vincoli ieri è stato decisivo nel ritorno alla vittoria della formazione Ravennate Monti anche per il Dovadola per fare un altro nome andiamo a vedere adesso per quel che concerne la promozione marchigiana qui ti ho stupito perché tu avevi anticipato appunto i movimenti dell'Ossimana qui ce ne sono tantissimi Rossini al Barbara che tra l'altro da ieri è appunto la nuova primatista Campano Ciaramitaro Ristepetiti per l'Ossimana Ferrucci e Gili per il Villa Musone saranno contenti oggi quelli di Villa Musone Moschini Vigor Senigallia perché sono due le squadre di Senigallia Silvestrini al Marzocca Gregorini ed Enrico al Football Club Senigallia andiamo a vedere anche la prima categoria Romagna questi sono gli ultimi i più importanti Bencivega Morciano Di Filippo Nova Feltria Giorgini allenatore del San Termete e Belloni San Termete proprio ieri il San Termete con il nuovo allenatore è tornato comunque a fare punti in classifica ottenendo un pareggio importante bene siamo addirittura d'arrivo rimanete con noi che tra poco tutto su Dimeni Calcio con Sport Up io ringrazio la nostra Verona Cardi Sotti grazie grazie a te e grazie soprattutto a voi appuntamento con Calcio di Rigore lunedì prossimo 19.55 ringraziamo purtroppo anche il nostro opinionista Giacomo Alpini grazie a tutti ciao grazie al centro campista della Savigianese Marco Brighi grazie a voi buonasera lui lo possiamo dire il prossimo acquisto del Rimino lo dico io salutiamo il direttore sportivo del Tropical Coreano Cristian Montanari grazie buonasera mi raccomando sempre così solidente e deciso come sei bravo e salutiamo mister Gamba Marco Gamba Corta sperando che la gamba si allunga per quanto riguarda il giro di ritorno del suo Villalta grazie ancora mister grazie a voi grazie a voi rimanete con noi tutto su Dimeni Calcio con SportUp grazie a Daniele Emanuele e a Veronica Lissone grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti